Salute a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube MCC137, oggi è 7 aprile 2020 e io mi sono venuta a fare una bella passeggiata al mare, ovviamente non c'è nessuno, ma di solito non c'è mai nessuno durante la settimana, perché comunque la gente è presa dal lavoro e il mare rimane per i sognatori. L'arte del sognare, ecco oggi vorrei parlare dell'arte del sognare, perché è importante sognare? Perché sognare ci porta in altre dimensioni, ci porta a saltare quelle linee che la fisica quantistica chiama stringhe. Perché la realtà è quella che è, indubbiamente, però per fare in modo che la realtà cambi c'è bisogno dell'arte del sognare. Quindi sognare è quello che si desidera, quello che si vuole, quello che ci fa star bene. Il sognare è anche il silenzio, stare in silenzio e mettersi ad ascoltare il cuore. Non è che dobbiamo fare un lavoro mentale, il sognare non è un lavoro mentale. Il sognare, secondo me, è un allinearsi alla frequenza del nostro cuore e fare in modo che questa frequenza vada a creare la realtà. Ad esempio, io in questi giorni sono stata molto impegnata in campagna, perché abito in campagna, quindi in campagna non si finisce mai, c'è sempre qualcosa da fare. E avevo tanta voglia di vedermi a fare una bella passeggiata al mare. E oggi ce l'abbiamo fatta. Poi oggi è di un cristallino incredibile. Poi oggi è di un cristallino di un cristallino di un cristallino. Abbiamo fatto assemblamento, io e la mia ombra. Sempre insieme io e la mia ombra, sempre insieme. Poi oggi è di un cristallino di un cristallino di un ricordo. A direccio è il cristallino di un cristallino di un cristallino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.